Questa volta sono io che inizio diciamo un po' a interrogare te visto che per questo secondo incontro qui da Leporello è toccato a te scegliere un libro e iniziamo bene perché da un libro ne abbiamo scelti poi due per tutta una serie di motivi che snoccioleremo piano piano insieme ma intanto magari vi raccontiamo di che libri inizieremo a parlare che sono due volumi usciti per Mac di Sam Contis e il primo è Deep Springs e il secondo è The Sleeper. Insomma Fabio ma perché da un libro ne sono usciti fuori due? È stato un po' casuale perché in realtà è nato mentre io stavo facendo altre ricerche, altre esplorazioni dentro il catalogo di Leporello perché mi aveva colpito che aveva trovato questo libro di Dorothea Lange perché stavo leggendo delle cose su di lei, mi stavo, mi era venuta voglia di come dire rivisitare il suo lavoro e quindi trovo questo libro a firma di Dorothea Lange e di Sam Contis nel catalogo di Leporello che non sapevo che era uscito questo libro per Mac quest'anno e quello che mi ha colpito è la doppia firma e questo titolo così elusivo dei Sleeper, cioè questa figura appunto del colui che dorme di giorno e soprattutto perché è abituata a quello che è Dorothea Lange come patrimonio fotografico, cioè una fotografia calata nella società, nella storia, qualche cosa di al tempo stesso appunto elusivo e intimista come l'immagine del Day Sleeper era già una cosa che cambiava un po' le carte in tavola rispetto all'immagine che abbiamo tutti di lei e poi questa doppia firma quindi non capivo si trattava di un libro... Che poi diciamolo qual è questa immagine, il grande tabù di Dorothea Lange che sembra che si possa sintetizzare il suo lavoro dietro questa immagine conosciuta come Migrant Mother che poi è una donna, una raccoglitrice di piselli fotografata mentre tiene in braccio due dei suoi sette figli... Sai che sono tre una foto dei figli addirittura... E poi andremo a controllare... Sicuramente c'è un dito ma di questo forse parleremo in un secondo momento rimarrà il mistero che ognuno potrà scoprire da solo però insomma sicuramente era una donna che aveva figliato molto mentre raccoglieva piselli nel sud della California e scusami se ti ho interrotto perché comunque è vero che abbiamo un'immagine come dire preconfezionata di Dorothea Lange molto riduttiva rispetto al suo lavoro e direi non solo rispetto a quello che ci fa vedere Sam Contis ma a quello che conosciamo attraverso diciamo la vulgata media della fotografia e tu che hai scoperto? Beh intanto appunto mi c'è voluto un po' di tempo per... Cioè l'ho preso subito il libro perché mi ha colpito questa cosa di un artista di oggi che si mette a confronto con un artista di decenni fa e istintivamente si coglieva una sensazione di rivisitazione, ripensamento, cambio di prospettiva rispetto al lavoro e quello che mi colpiva era che non era un libro a cura di Sam Contis e qui appunto all'inizio pensavo che fosse veramente un dialogo di immagini, di fotografie e poi ho scoperto che appunto si tratta di un libro dove Sam Contis per quanto è un artista fotografa in questo libro si è messo a fare come dire l'archivista, curatrice, artista perché è andata a rivisitare quello che è soprattutto l'archivio di Oakland di Dorothea Lange che è quello diciamo creato dopo la sua morte con tutto ciò che non era già nella Library of Congress o in altri archivi nazionali e ha creato un percorso di immagini che non passa per le storie che non passa per la riconoscibilità degli eventi ha creato un percorso squisitamente estetico e non solo quello ha creato un percorso dove lei dichiara di aver trovato delle forti risonanze nelle immagini di Dorothea Lange delle forti risonanze con la propria ricerca di fotografa e quindi questo poi mi ha fatto andare indietro e ho scoperto, confesso che non la conoscevo, un suo libro come artista cioè di sue immagini che è un libro del 2017 che è Deep Springs sempre pubblicato per Mac che è il suo primo libro poi in sostanza. In cui poi è interessante poi vabbè facciamo questa piccola parentesi io ti devo ringraziare perché sono libri che è un po' che abbiamo qui da Leporello ma che io non ho mai letto, studiato, guardato, sfogliato con l'attenzione che adesso mi viene da dire meritano tantissimo in cui poi emerge un modo di operare di Sam Contis che è quello di confrontarsi con l'archivio già da Deep Springs e con una storia della fotografia che è super interessante e che ci fa vedere un po', ne parlavamo prima di iniziare questo incontro insieme, l'altro lato della medaglia di quello che può essere la visione del West americano rispetto a quella visione della scoperta della frontiera, del sublime, del paesaggio, della conquista che può sintetizzare un lavoro come quello di Ansel Adams, invece scopriamo un'attitudine californiana, possiamo chiamarla così, o comunque della costoli occidentale molto attenta all'uomo, quasi umanista e molto attenta a quella che è la vita quotidiana degli uomini con una freddezza che si priva completamente di freddezza, mi viene da pensare a una freddezza perché poi questi nostri incontri un po' si mischiano con quelli che sono diventati i miei podcast preferiti del momento, che sono quelli che fai con Francesco Pacifico, Parchi e Monumenti e in uno degli ultimi podcast parlavate dei due californiani d'eccellenza che sono Larry Salton e Mike Mandel, che affrontano l'uomo, affrontano il rapporto con la storia della fotografia, con una distanza e con una relazione a quella che noi chiamiamo la deriva concettuale della fotografia. Intanto grazie della sponda e della menzione del podcast, però l'analogia con Mandel e Salton è evidente, è interessante perché entrambi i libri, dei Slipper con le foto di Dorothea Lange e Deep Springs con le foto di Sam Contis stessa, sono dei libri di fotografie dove coesiste una ricchezza di informazioni, nel senso che sono fotografie ricche di dettagli, ricche di percezione dell'atmosfera, delle texture, della materia fotografata, sono delle foto che sono ricche di dettagli e di informazioni, ma nelle quali è molto difficile connettere queste informazioni e capire la storia che raccontano. Quindi sono estremamente fotografiche da un punto di vista visivo e estremamente misteriose da un punto di vista narrativo. La premessa di Deep Springs da un punto di vista proprio di che cos'è la storia da cui parte il libro è un po' un tradimento rispetto all'opera perché Sam Contis decide di non, non c'è nessun testo nel libro, per cui non ti viene detto nulla, tranne il titolo, però è una premessa che secondo me è interessante e non rovina, come dire, la sorpresa del libro. Deep Springs è il nome di un college americano che si trova nella valle omonima che sta al confine fra Nevada e California ed è un college particolarissimo perché è un'istituzione che prende all'incirca una quindicina di studenti all'anno per un totale di massimo 30 studenti che vanno lì a fare una vita particolare dove c'è sia la formazione accademica che tutta una serie di mansioni a dove svolgere, di lavoro manuale, gestione proprio dello spazio da un punto di vista di manutenzione, quindi è un college se vogliamo esistenziale, non so come dire. Ma un college ranch che fa molire. Calato nel deserto con connessione internet quasi nulla e una comunità autosufficiente in sostanza che ha la particolarità di essere stata per quasi tutta la sua storia che è un secolo una comunità esclusivamente maschile, un'istituzione educativa soltanto per uomini, per maschi che soltanto nel 2018 è diventata un college misto l'anno dopo che questo libro è uscito. Per cui praticamente è come se questo libro fosse una strana elegia diciamo di messaggi ambivalenti rispetto a questo mondo tanto isolato quanto esclusivamente maschile che è Deep Springs. L'ultimo dato come dire storico di antefatto che è interessante è che la questione di cominciare a cambiare questo assetto diciamo solo maschile è cominciata nel 2011 a livello di collegio docenti, a livello anche di un gruppo di studenti e poi questa faccenda è arrivata alla Corte Suprema della California dopo sette anni di questioni legali perché un gruppo di studenti del passato ha intentato una causa contro questa cosa. si opponeva alla trasformazione del del college perché sostenevano che andava contro la missione diciamo fondatrice dei primi degli anni dieci del ventesimo secolo insomma è stato fondato credo nel 1910 o all'incirca in quegli anni e quindi alla fine questa è stata una cosa che si è portata avanti fino al 2018 dove poi alla fine la sentenza ha approvato la trasformazione in college misto. Quello che fa Sam Contis nel lavoro è stato esplorare questo questo micromondo per qualche anno se non sbaglio. dal 13 al 17 ha continuato a tornare al college. E trovo molto affascinante che un libro fatto di come dire frammenti come secondo me è Deep Springs sia qualcosa che si è svolto in un arco di tempo così lungo che fa pensare al tempo che al diverso tempo che diversi tipi di fotografie richiedono per come dire sedimentarsi se vuoi anche perché poi è un libro fatto di dialogo fra immagini che lei ha realizzato in quegli anni e immagini dell'archivio del del college. Ma infatti mi fa piacere che tu parli del tempo perché è questo credo che sia un forte ponte anche col libro fatto con D'Aurotea Lang diciamo così ed è proprio questa sensazione di viaggiare continuamente nel tempo avanti e indietro e devo dire che da un punto di vista della narrativa io invece trovo che ci sia un montaggio che è molto fluido da seguire e fatto di dei dettagli per cui l'editing per quanto siano degli impaginati in entrambi i casi molto molto semplici è invece costruito in una maniera che senza essere diciamo matematica nella sua impeccabilità ti fa seguire una trama in una maniera molto molto scorrevole fatta di piccoli dettagli che sono anche piccoli dettagli visivi per esempio per me Deep Springs è un po' la storia della macchia o almeno c'è questo elemento della macchia che ti aiuta un po' a seguire tutto quanto e che ti fa viaggiare avanti e indietro nel tempo anche con dei meccanismi strani che sono di ribaltamento delle immagini non so se te ci hai fatto caso se appunto queste letture notturne la sintesi che mi viene più istintiva alla mente è che lega molto i due libri nel senso che secondo me i libri da un punto di vista di editing e di impaginazione delle fotografie dialogano tantissimo c'è ci sono tanti livelli a cui dialogano secondo me c'è la materia fotografica la materia fotografica nel senso che c'è un rapporto con i corpi un rapporto con l'avvicinarsi e allontanarsi dai corpi un rapporto con l'andare avanti nel tempo come dici te e anche proprio un rapporto con la pagina e con la sequenza delle pagine nel senso che io trovo questo continuo presentarsi di accostamenti e contrapposizioni di confronti e antitesi di immagini di immagini che all'improvviso occupano tutta la pagina di immagini che si fanno molto piccole cioè il modo in cui per esempio Sam Contis va liberamente avanti e indietro nel tempo nel fare la sequenza delle immagini di Dorothea Lange cioè passa dagli anni 30 agli anni 60 poi torna agli anni 40 senza necessariamente una linearità cioè è un continuo andare avanti e indietro nella storia fotografica di Dorothea Lange che è una cosa che non è stata mai fatta e che schiude un livello estetico superiore nuovo, diverso fatto di tanta, come dire, di questa strana esplorazione silenziosa secondo me che hanno in comune e quindi vediamo tornare i visi, le mani, i luoghi con delle risonanze estetiche fortissime fra le foto di Dorothea Lange, le foto di Sam Contis e l'archivio contenuto in Deep Springs perché poi quello che io trovo particolare dell'uso dell'archivio e qui mi interessa molto sapere cosa ne pensi tu che ti confronti molto più di me con l'uso dell'archivio nei libri fotografici le fotografie che lei sceglie non sono lì come frammenti di archivio ma sono lì come contrapunti squisitamente visivi alle sue fotografie secondo me c'è questa forte invece impronta narrativa che caratterizza tutti e due i libri è come se lei piano piano visualizzasse una storia fatta di, appunto, elementi anche elusivi ma che ritornano in cui credo che la scelta delle immagini sia fatta anche in funzione come dire, sempre di quel ritornare da un insieme a un dettaglio che si valorizzano reciprocamente ma da questo punto di vista c'è una parte molto bella che non so se leggere direttamente in inglese perché io sono una schiappa a tradurre sul momento se poi ci provo io a tradurre che parla anche un po' di questa accumulazione di questo voler ricostruire delle immagini attraverso le immagini delle storie completamente differenti eppure già iscritte in una visione del mondo o in un interesse rispetto a determinati aspetti del mondo mi piacerebbe, se ti va, che leggessi e traduzessi l'ultimo paragrafo di questo libro da qui le immagini in questo libro sono di Lang la selezione e il rapporto fra di loro sono mie nel momento in cui rispondo ai temi che vedo nel suo lavoro in questo modo si riflette anche il mio modo di guardare tanto quanto il suo un altro artista avrebbe fatto un libro diverso come ha detto Lang stessa dell'FSA cioè la Farm Security Administration cioè la grande committenza governativa in cui lei, Walker Evans e altri fotografi negli anni 30 hanno documentato la crisi rurale negli Stati del Sud in America quindi come ha detto lei stessa, Lang stessa dell'FSA l'archivio dell'FSA è utilizzabile in tanti modi diversi ci sono all'incirca un centinaio di mostre complete in quell'archivio l'archivio di Oakland di Lang è un archivio analogamente aperto verso la fine della sua vita aveva cominciato ad allontanarsi dal pensare in termini di singole immagini e stava sperimentando con degli statement fotografici con delle affermazioni fotografiche con delle dichiarazioni fotografiche modi di raggruppare le immagini in modo da esprimere e qua cita lei relazioni, equivalenze, progressioni, contraddizioni positivi, negativi eccetera Lang sapeva che non aveva esaurito le possibilità di quello che aveva creato spero che lei possa vedere questo libro come un modo per ricominciare da dove lei si era fermata io quando ho letto questa cosa mi sono proprio emozionata ma un poco per il fascino del montaggio delle immagini e di possibilità che vanno molto oltre delle narrative precostituite e il fatto di trovare dentro un diario della Lang delle parole che ci fanno leggere l'operazione della Contis non come una sovrainterpretazione ma come un dialogo in un mondo possibile con lei mi sembra che sia un poco il nucleo di questo lavoro ci sia anche l'intento non dichiarato in maniera frontale di liberarla dall'identità che le sono state imposte diciamo dalla storiografia ufficiale per cui diciamo un altro elemento che secondo me è molto bello di questi due libri insieme cioè del lavoro che ha fatto Contis sull'archivio di Lang e del lavoro che lei fa come ricerca fotografica propria e che insieme esprimono è un esempio di come una forma di solidarietà fra due sensibilità sia l'occasione che schiude una possibilità artistica è bello pensare che la solidarietà come sentimento porti a... arricchisca una ricerca una risonanza che poi è una di quelle parole che io uso in continuazione però devo dire che ho proprio sentito questa forte risonanza fra appunto l'approccio di Sam Contis che poi si chiama Samantha e quello di Dorothea Lang ed è una risonanza che richiama anche tutto un mondo fotografico prima di questa registrazione abbiamo parlato brevemente ma secondo me è molto interessante appunto magari prima ci siamo un po' anche persi nella nostra passione per Salton e Mandel però c'è un mondo per cui ritorniamo a Robert Adams è un certo tipo di rapporto col paesaggio e anche con l'umano che esprime Adams da una parte e dall'altro invece con una cultura della fotografia che mi viene molto da legare al Messico a Manuel Alvarez Bravo per esempio in una maniera però che non è come ci raccontavamo brevemente prima lineare e pedisse qua ecco questo trovo che sia una cosa molto affascinante lei stessa in un'intervista dice che lei è molto attratta da da questi diciamo da queste premesse diciamo fotografiche nel senso Alvarez Bravo come Tiramo Dotti come il modo di usare la figura umana di Merrey lei stessa dice io sono molto attratta dalla fotografia che poi adesso è un classicismo ma a suo modo invece era un'avanguardia all'epoca però la fotografia agli anni 30-40 però quello che voglio fare non è un omaggio ma una riattualizzazione nel contemporaneo di determinate premesse plastiche di quella fotografia secondo me in questo lei fa una sintesi estremamente affascinante perché ci sono le tracce del paesaggio americano così come è stato passato di mano da diverse generazioni cioè da Ansel Adams a New Topographics nel senso questa trasformazione direi quasi da O'Sullivan sì, cioè dal sublime alla problematizzazione del paesaggio degli anni 70 cioè ci sono come dire ecchi di questa cosa però come dire sono frammenti non c'è mai il paesaggio abbracciato dalla macchina fotografica ma c'è il paesaggio intuito da quel poco che lei ci fa vedere c'è appunto questo lavoro sulla figura sul corpo, sui gesti che è sia quello di questi diciamo antecedenti che lei cita ma è anche nascosto nella fotografia di Dorothea Lang anche se non è come dire la sua eredità più riconosciuta e c'è la scomposizione della narrazione riservato nella fotografia esatto e c'è la scomposizione come dire della narrazione fotografica di un libro come Evidence secondo me lei riesce a far coesistere nel suo lavoro delle traiettorie fotografiche molto diverse è molto distinta a livello storico se vuoi è come se coesistesse in una cosa estremamente contemporanea la sensazione di un profondo classicismo nel suo lavoro lei è tanto contemporanea nel suo come dire frammentare le informazioni quanto profondamente classica nella qualità della sua materia proprio della superficie fotografica e qui mi viene da tirare fuori un'altra parola che per me è un grande classico le ha metabolizzate assolutamente che non è proprio riprendere e riutilizzare ma è assimilare fra le proprie e poi trasformare in un proprio linguaggio ripartire da lì ripartire da... from back home diciamo potrebbe ripartire più o meno comunque io devo dire che sfogliando questi due libri questi montaggi poi sono rimasta ipnotizzata da due immagini che richiamano vabbè l'aquila che poi è legata anche a diciamo un aspetto della farm security administration e sono tutte e due foto di archivio e volevo chiedere a te e tu che ne pensi di questo ritrovamento di due aquile ma io penso che... così simili e così importate Deep Springs è del 2017 per cui lei ha... negli anni che hanno preceduto la pubblicazione del 2017 ha trovato questa fotografia nell'archivio del college e l'ha messa nel libro io penso che quel discorso di solidarietà, affinità che diventano come dire qualcosa di tanto umano e relazionale quanto artistico deve essere stato un momento diciamo di epifania quando lei due anni dopo stava nell'archivio di Dorotea Lang e si è trovata quella foto di quell'aquila il fantasma di Dorotea Lang cioè quelle due immagini non considerando tutte le mani, le schiene, gli abbracci, i contatti fisici e le coesistenze di ruvidezza e dolcezza di come dire violenza latente e umanità che si sentono sia nelle foto di Lang che nelle foto di Contis quelle due fotografie dell'aquile sono proprio la sintesi visiva di tutto quello che abbiamo detto insomma in questa chiacchierata secondo me bellissimo beh, la nostra chiacchierata come al solito dura un po' più di quello che avessimo preventivato non ci conteniamo non ci conteniamo però ci fanno contenere grazie Fabio è sempre super divertente avere a che fare con te grazie a te alla prossima bene grazie a te grazie a te grazie a te